In questi video di quarantena stiamo approfondendo quelli che sono le mie simpatie e i miei tifi nelle varie categorie e i vari sport che tratto qui sul canale sportivo. Abbiamo parlato di Formula 1 con Mikahaki, abbiamo parlato di baseball americano, MLB, con i New York Mets. Completiamo il trittico degli sport principali del mio canale parlando di moto mondiale e dei motivi per il quale io tifo la Ducati. La Ducati è una scuderia che in MotoGP c'è da veramente poco tempo. Se pensiamo alle altre categorie e alle altre moto che sono presenti nel mondiale, la casa di Borgo Panigale, quindi Bologna, è presente nei primi anni 2000 e si è tolta il lusso di vincere gare. E non solo quelle, anche un mondiale leggendario con Stoner, uno dei piloti più talentuosi sinceramente che abbia mai visto su una motocicletta in tutte le competizioni possibili e immaginabili. E l'episodio che vi voglio raccontare oggi è quella gara leggendaria per i tifosi della Ducati che fu Valencia 2006. Una gara e un pilota soprattutto che mi fece passare definitivamente a tifare la Ducati non solo nel moto mondiale, ma soprattutto in Superbike dove già anni prima la Ducati ha fatto le fortune. La provenienza della Ducati è proprio la Superbike e le moto derivate dalla serie. Si era concentrata espressamente lì fino ai primi anni 2000. Poi dal 2003 se non sbaglio, o comunque sempre i primi anni 2000, fece l'esordio anche in MotoGP e appunto si tolse il lusso già nei primi anni di, tra virgolette, apprendistato di vincere qualche gara qua e là. I piloti se ne sono seguiti tantissimi. Nel 2006 la Ducati fece la coppia Capirossi-Gibernau. Gibernau che fu il grande rivale di Valentino Rossi, che era comunque il Valentino Rossi degli anni d'oro, che vinceva mondiali a ripetizione. E quell'anno il Mondiale, il pilota marchigiano, se la giocò con Nicky Hayden o Hayden per dirla all'americana, pilota all'epoca della Honda ufficiale. La Ducati cannò clamorosamente la stagione. Gibernau fu un flop assoluto. Gibernau tra l'altro poi si infortunò e qui entra in gioco il protagonista della storia. Il protagonista che mi ha spinto definitivamente a tifare per la scuderia di Borgo Panigale. La Ducati, già all'epoca quando seguivo un po' da bambino, nei primi anni con i grandi italiani che vincevano, Rossi, Biaggi, Capirossi e Melanderi, la mia simpatia andava sempre verso Capirossi. Quel pilota, quella che era numero 65, che all'epoca guidava una Ducati veramente fortissima sui rettilini e incurvabile nelle curve, veramente una roba oscena e imbarazzante. Quell'anno la Ducati, memore appunto di quel flop della stagione, fece fare una comparsata a un pilota che aveva già fatto una stagione in MotoGP qualche anno prima, fallimentare con Honda. Veniva dalle Superbike, è tornato indietro, ha vinto un mondiale Superbike con la Ducati e fece una leggendaria gara a Valencia 2006. Sto parlando di Troy Bayliss, una leggenda vivente se siete appassionati di motociclismo. Troy Bayliss è un pilota australiano, all'epoca aveva già 38 anni, era un pilota molto esperto, molto avanti con l'età e appunto oltre quella stagione fallimentare in MotoGP aveva fatto veramente ben poco. Ma Troy Bayliss, come ben saprete, si tolse il lusso da pilota sostituto di Gibernau di vincere una gara in MotoGP e tornarsene indietro in Superbike, dove poi tra l'altro avrebbe vinto un altro mondiale. L'australiano Bayliss ha vinto tre volte il campionato del mondo Superbike, una leggenda veramente di questo sport. E appunto per me, tifoso Ducati, da quella volta lì è una gara che veramente ricordo con piacere perché vedere questo pilota a 38 anni che vinso il mondiale Superbike dopo aver fallito in MotoGP tornare e arrivare a vincere a un'età tra l'altro così avanzata perché appunto Bayliss aveva 38 anni è un'emozione veramente incredibile e che ricordo veramente con molto piacere. Tra l'altro quel mondiale 2006 fu uno dei più belli da vedere perché appunto ci furono tanti episodi controversi che un po' ostacolarono l'assegnazione del titolo. Per esempio la gara persa da Rossi ai danni di Tony Elias, all'Estoril, Pedrosa che stende Aiden, suo compagno di squadra, nella gara successiva e Aiden si stava appunto giocando al mondiale. E poi la perla di Troy Bayliss che appunto venne chiamato dal manager della Ducati appunto esclusivamente come premio per aver vinto il mondiale con la casa italiana nello stesso anno. Il modello Superbike storicamente finisce sempre prima del mondiale MotoGP. E in quella gara Troy Bayliss si riscattò della stagione fallimentare che fu nel 2006 e andò a vincere una gara leggendaria. Leggendaria perché raramente si è visto un pilota wildcard o sostituto presentarsi e vincere su una moto tra l'altro completamente diversa. Perché ok che magari la struttura fisica può essere simile però vi ricordo che le Superbike sono moto derivate dalla serie stradale mentre la MotoGP in generale sono dei prototipi ed è uno stile di guida veramente completamente diverso. Quindi Troy Bayliss non solo dimostrò una grande capacità di adattamento ma fece un'impresa che raramente poi venne ripetuta negli anni a seguire. Troy Bayliss vinse l'unica gara a corso in MotoGP con la Ducati a Valencia 2006. Tra l'altro fu doppietta Ducati peraltro perché Capirossi si classificò al secondo posto e terzo in quella gara. Si classificò Nicky Hayden, la buonanima di Nicky Hayden che vinse il suo primo e unico titolo del mondo ai danni di Valentino Rossi. E Valentino Rossi che cadde nei primi giri per la disperazione della maggior parte dei tifosi italiani. Il pilota americano vinse il titolo del mondo per la cronaca. Hayden fu più un piazzato che un vincente ma insomma anche nel ricordo adesso che Nicky Hayden è scomparso da qualche tempo di quel mondiale è comunque un ottimo tributo anche per questo pilota americano. Il pilota americano che tra l'altro fu compagno di squadra di Rossi in Ducati e sistematicamente in Ducati Cancelo negli anni 2010-2011 gli stava spesso e volentieri davanti segno che comunque Hayden non era un pilota fermo seppur appunto più impiazzato che un vincente ma il protagonista vero fu l'australiano Troy Bayliss che regalò emozioni a me, un ragazzino di all'epoca 12 anni, io vi ricordo sono del 94 e che rivedendo i ragazzi di questa gara ogni tanto fa venire i brividi ancora adesso perché è un'impresa veramente leggendaria per la gioia di tv di Ducati come me c'è la disperazione di quelli di Rossi perché Rossi in quella gara di fatto perse il titolo del mondo ma l'arrivo della scuderia di Borgo Panigale in doppietta con Bayliss primo e Capirossi secondo è ancora oggi dopo i mondiali di Stoner una delle imprese più belle che un tv da Ducati può assolutamente ricordare. Dunque in quella gara suonò Advance Australia Fair che fu ed è ancora l'inno nazionale australiano per un pilota che in MotoGP ha fatto poco meno di 20 gare, ne ha vinta una sola ma quella gara è veramente leggendaria. Troy Bayliss è ancora adesso una leggenda vivente nel senso che anche adesso che ha 50 anni ha smesso di correre per soprattutto limiti d'età ma Troy Bayliss è un pilota veramente eclettico e leggendario perché corse fino alla massima età possibile e a 49 anni addirittura andò a vincere qualche gara nel campionato australiano Superbike segno che anche se un pilota è invecchiato ma è talentuoso di certo non lo puoi fermare. Il saluto da parte di Matthew Thorgard questo ciclo primo di racconti sul mio tipo personale finisce qui se ci sono nel caso altri aneddoti o curiosità che potete sapere sul mondo dello sport in questo periodo di quarantena vedremo a caso mai di fare altri video in merito ci vediamo spero al più presto ad un prossimo video A 38 anni abbiamo speranze in tanti grazie a Troy Bayliss che ci apre degli orizzonti che abbiamo metto tutti i vostri come lui anzi lascialo fare lascialo fare che questo è un bel regalo che fa una parte dell'umanità compresi i suoi tifosi Troy Bayliss Troy Bayliss Troy Bayliss c'è davanti a Capirossi domani ! ha che e ha il possibile Grazie per aver guardato il video!